questa volta il viaggio ci porta nel mediterraneo tra mito e realtà alla ricerca delle nostre radici e lo facciamo accompagnati da un divulgatore d'eccezione con lui prenderanno forma paesaggi arcaici ricerca scientifica con uno sguardo attento appunto alla fragilità del mare nostrum è il geologo divulgatore scientifico saggista autore conduttore televisivo mario tozzi ciao mario grazie di essere qua con noi e lascio il palco a te eccoci allora buongiorno la faccio breve non c'è niente di così importante che non si possa dire in poco tempo ho scritto questo libro sul mediterraneo che apparentemente c'entra poco con l'attualità che viviamo tutti i giorni però secondo me poi alla fine c'entra però quando immaginate quando uno si rappresenta il mediterraneo immagina che ne so le battaglie navali no quelle recenti oppure quelle antiche dei greci immagine i romani che lo chiamano mare nostrum se volete si spinge ai giorni nostri e immagina un mare che è diventato una divisione mentre prima univa un tempo chi veniva da mare portava sempre qualche cosa non portava via non veniva percepito come qualcuno che portasse via dunque pensiamo al mediterraneo dell'ulivo della vite ecco tutto questo nel libro non c'è scordatevelo perché non si parla di questa roba qui si parla di quello che c'è prima cioè di storia arcaica la storia di quando i sapiens non c'erano cioè quello che è successo come si è formato il mediterraneo quali sono state le sue vicissitudini profonde come è fatto sotto tutte cose che i sapiens non possono sapere se non perché i geologi si mettono lì a cercare di ricostruire leggono le rocce cercano di vedere ma non l'hanno visto i sapiens veramente non l'hanno visto nemmeno i rappresentanti del genere uomo quindi ho deciso di farlo raccontare da chi l'ha visto veramente da chi ha visto quei fenomeni e chi è che li ha visti beh ci ho pensato un po' i primi a vederlo sono stati i pesci e la protagonista del primo racconto sono nove racconti in realtà è un saggio per modo di dire è una tonna ora non so se si dice tonna o tonnessa o si dice tonno non saprei come dire effettivamente comunque questa tonna che si chiama antea è protagonista del primo racconto ci dice quando c'era la mamma del mediterraneo che era un altro oceano che si chiamava tetide come la dea ed era del tutto diverso da quello che c'è oggi era un oceano che si apriva fra le terre del nord e le terre del sud parliamo di centinaia di milioni di anni fa dunque qualcosa che noi non abbiamo potuto vedere ma che ricostruiamo oggi antea ci racconta come era fatto e ci racconta anche come è fatto il mediterraneo sotto oggi non è mica una pianura bella piatta in cui non si vede niente è piena di valli di canyon di vulcani di frane c'è qualsiasi cosa sott'acqua ci dice anche però che loro i tonni che erano insieme ai pesci protagonisti di quella vita lì quando ancora non si era usciti fuori dall'oceano per le terre emerse li abbiamo trattati proprio male oggi li valutiamo al chilo e li mangiamo sfilettati insieme a una palla di riso dolce e questo ha cambiato molto le cose sono quasi sull'oro dell'estensione invece sono animali magnifici quasi a sangue caldo si potrebbe dire dunque andrebbero preservati ci raccontano dell'uso terribile delle mattanze delle camere della morte ci racconta antea di come abbia perso il suo compagno di tante storie antiche ma anche moderne poi ho pensato che chi poteva cogliere il testimone era una delfina anche questa è femmina e ci racconta dal punto di vista dei cetacei cioè dei mammiferi marini come è andata la questione del mediterraneo ci racconta un fenomeno straordinario che a un certo punto il mediterraneo lo stavamo per perdere si era seccato tutto cioè erano rimaste delle pozze di acqua salmastra attorno alle quali si aggiravano alcuni animali e dentro le quali c'erano rimasti ben pochi pesci e mammiferi marini perché avevano deciso di andarsene via da gibilterra perché gibilterra si era chiusa non passava più l'acqua dell'oceano e dunque il mediterraneo stava soffrendo di quella che si è chiamata una crisi di salinità diventava sempre più salato e sempre più piccolo loro hanno visto questo fenomeno che noi oggi vediamo nelle miniere di sale di sicilia per esempio dove ci sono degli spessori enormi di sale da dove deriva proprio da quel momento lì fra 5 e 7 5,9 milioni di anni fa quando il mediterraneo lo stavamo per perdere stava per morire e quindi i delfini ci raccontano la loro storia la differenza con i pesci perché hanno scelto di tornare in acqua visto che sono mammiferi che poi sono ritornati in acqua perché gli è convenuto per quale ragione preferiscono rimanere lì e poi ci sono altri abitanti invece terricoli per esempio gli antichi proboscidati cioè gli antenati dei mammut e degli elefanti noi pensiamo di essere gli animali più intelligenti di tutti no quante volte ce lo diciamo che siamo molto intelligenti ma l'intelligenza è una caratteristica della vita non è certo una caratteristica dei sapiens in senso stretto o meglio noi ce l'abbiamo per la verità ma non so per esempio le scimmie la scimmia che racconta è una scimmia femmina una scimpanzia comune femmina si chiama cita ma lo fa per farci piacere perché sa che noi sappiamo di tarzan ci sembra di ricordare quindi ci racconta la sua storia ci dice vabbè voi pensate di essere intelligenti ma avete valutato bene perché c'è un vostro rappresentante cioè un nostro un uomo un sapiens come noi che si chiama Tetsuro Matsuzawa che è un famoso primatologo giapponese che fa esperimenti con gli scimpanziai purtroppo in cattività però diciamo hanno un loro valore e per esempio in uno di questi esperimenti Tetsuo che ho conosciuto personalmente un personaggio straordinario mette su un tablet un mega tablet fa comparire una sequenza di numeri una dozzina di numeri tra 1 e 99 a caso dentro dei quadretti che si illuminano questa sequenza si illumina per una frazione di secondo un quinto di secondo il tempo di battere le ciglia lo scimpanziai è abituato scimpanziai di tre anni quelli diciamo più svegli è abituato a ricomporre la sequenza e la fa 90 volte su 100 corretta poi Tetsuo ha chiamato il giapponese che fa il cubo di rubic in meno tempo in 40 secondi insomma qualcosa e gli ha fatto rifare lo stesso lavoro e lui lo fa 40 volte su 100 non ci vedono proprio i cimpanziai da un punto di vista dell'intelligenza veloce sono molto più svelti di noi e dice cita nel racconto voi ci rimproverate perché non abbiamo inventato lo smartphone dunque vi ritenete più intelligenti ma sarà che nella giungla non ci serve a granché lo smartphone quindi diciamo questi racconti sono anche fatti un po per domandarci attorno all'uomo domandarci attorno ai sapiens questa idea dell'intelligenza no che ci caratterizza che sia un vettore maggiore pensate uno pensa sì i scimpanziai sono intelligenti lo possiamo riconoscere ma anche gli elefanti sono molto intelligenti lo sono tutti i mammiferi ma lo sono anche gli altri viventi tu immagina voglio prendere gli esempi più estremi tu immagina il virus allora SARS-CoV-2 è un frammento di RNA dunque uno dice vabbè che intelligenza è un formidabile decifratore di codici i virus decifrano i nostri codici sanno prendetelo sempre tra virgolette sanno che mettiamo le mascherine sanno che ci distanziamo sanno che abbiamo i vaccini e infatti suo cugino SARS-CoV-1 quando arriva alla platea del mondo non riesce a sviluppare una grossa pandemia perché nasce in oriente come sapete lui infetta con la tosse o con lo starnuto dunque sfrutta questo oggetto lungo del respiro per andare a infettare ma naturalmente se uno tossisce o sternutisce si ripara magari si mette malato a casa dunque tanta trasmissione non ce l'hai SARS-CoV-2 infetta solo col respiro io lo trovo geniale ha capito sa che quel sistema funziona poco il respiro è più corto però nessuno sa che sei malato ti infetto quando non ho i sintomi ma questo i microorganismi lo fanno tutti pensa ai Ersinia pestis il batterio della peste quello si infilava nello stomaco delle pulci e ne bloccava il pasto quindi quelle c'avevano fame mordevano assai ma non mangiavano avevano sempre più fame dentro la saliva chiamiamola così c'erano milioni di Ersinia pestis che dunque si infilava una volta che pizzicava un uomo attraverso il bubone appunto nel sistema sanguigno arrivato lo scambio coi polmoni diventava era capace di infettare per via aerea ma io lo trovo geniale geniale per non parlare delle piante con tanta tristezza noi diciamo ogni tanto è ridotto un vegetale leviamo l'aspetto triste magari le piante sono straordinarie stanno ferme in un punto gliene nevi il 95 per cento e campano l'anno successivo quale vivente umano lo farebbe nessuno pensa all'ortensia no la taglia a zero l'anno dopo c'è dove è andata a finire come fa c'è un mio amico che fa il neurobiologo vegetale che si chiama stefano mancuso che conoscerete che porta queste piantine di mimosa pudica su un carrelletto su una strada scoscesa con un trattore la mimosa pudica è quella mimosa che se tu tocchi la foglia lungo la linea sagittale si richiude perché teme di essere minacciata non ne porta 4 5 piante in vaso questa questa è traballo traballano e si chiudono perché pensano che ci sia un pericolo al quarto viaggio non si chiudono più avranno capito quando pensiamo che l'intelligenza è una caratteristica della vita i protagonisti dei racconti del libro ci fanno pensare guarda bene quello che intendi per intelligenza non pensare di essere l'unico depositario di intelligenza comunicazione parola racconto strumenti tecnologia perché non è così non è così l'uso degli strumenti no tante volte si dice noi siamo gli unici che inventiamo strumenti non è vero li inventano tutti gli animali uccelli scimmie per prime qualcuno ha riconosciuto un limite nel fatto che gli scimpanzai più evoluti riescono a fabbricare strumenti complessi ma non riescono a fabbricare strumenti con i quali costruire altri strumenti si chiama limite di sultan perché sto scimpanzai sultan gli hanno messo un filo d'acciaio con dei caschi di banane e della roba a terra lui riusciva a mettere delle cassette per salirci sopra poi non ci arrivava prendeva le canne le infilava una sull'altra alla fine riesce a buttare giù però non riesce ad andare oltre quello io credo che perché non gli serve fondamentalmente non perché non ce la fanno la tecnologia è fatta su quello che hai c'è un'altra scimmia che prima di andare nella giungla si porta dal posto dove dorme una pietra sulle spalle perché sa che lì trova delle noci che non riesce a spezzare con le mani se la porta da casa non è un martello ma insomma di fatto tecnologia basilare quindi cita ci racconta il suo mediterraneo quello che si è seccato come ce l'hanno raccontato anche gli elefanti e ci fa riflettere sulle strategie sociali su quanto siamo sapiens su che significa essere intelligenti poi arrivano sul palcoscenico a raccontare esseri un vicino a noi sono le altre specie di omo e le altre specie di ominidi prima dei sapiens e quindi c'è spazio per altri esseri che sono i nostri progenitori e che si fanno alcune domande sia sul mediterraneo andando a vedere come le caratteristiche geografiche influiranno su quelle storiche se c'è una storia del mediterraneo in un certo modo è perché c'è una certa geologia se no ce ne sarebbe stata un'altra e questi questi esseri sempre femmine ci raccontano anche il momento in cui a un certo punto qualcosa cambia una serie di cambiamenti all'interno dei nostri antenati ci porta poi a diventare sapiens prima di questo arriva sul palcoscenico anche una neandertaliana che si chiama nenni e lei ci racconta dice guarda voi siete l'unica specie di omo rimasta domandatevi perché anche noi ci siamo estinti 40 mila anni fa eppure avevamo un cervello più grande del vostro non siamo spariti completamente il 10 per cento del dna neandertaliano è dentro i sapiens quindi vuol dire che qualche scappatella si faceva a suo tempo ma domandatevi del perché vi ritenete gli unici depositari della creatività della creazione artistica della storia quando invece la storia la fanno gli elementi più grandi e creativi eravamo pure noi in particolare ricorda nenni che c'era uno scimpazzè ritorno alla storia di cita che si chiamava congo che negli anni 50 dipengeva quadri astratti congo se trovate i suoi disegni sono bellissimi i disegni di congo venivano venduti alle aste insieme con i quadri dei sapiens qualche volta pagati di più non veniva rivelato che era lui l'autore ma il fatto è che piacevano tanto anche ai pittori veri salvador dalì per esempio era un appassionato dei dipinti di congo siccome ce l'aveva con pollock quando voleva prenderlo in giro gli diceva guarda che congo dipinge meglio di te ma anche gli elefanti dipingono eppure certi cavalli a dire sempre che anche i rappresentanti del genere uomo più vicini a noi nelle società tradizionali non avevano dimenticato questa radice comune ci fanno presente un'altra cosa quando pensiamo ai sentimenti alle emozioni crediamo di avercele solo noi ma è bizzarro questo perché crediamo che l'evoluzione biologica sia esistita tant'è vero che le nostre mani derivano da altri organi noi deriviamo da un antenato comune con le scimmie prima ancora un altro ancora ancora indietro nel tempo quello ci sembra credibile arrivato al punto delle emozioni e dei sentimenti quello è solo roba nostra ma come è possibile non è che ce li siamo inventati sono frutto d'evoluzione pure quelli e quindi vuol dire che ce l'hanno pure tutti gli altri viventi come sa benissimo chi ha un cane o un gatto il mio cane sogna si gira si lamenta no l'avete visto quante volte e che sta facendo semplicemente non lo sappiamo comunica e a voglia se comunica ha paura sente rabbia è invidioso è geloso è innamorato le sentono tutti ma mica solo i cani i gatti gli altri mammiferi ma anche gli altri animali c'è una serie ormai smisurata di storie di aneddoti filmati che ti fanno vedere cose straordinarie polpi che ti accarezzano addirittura rettili con i quali non sembra possibile nessun tipo di interazione che sembrano comprenderti e tutti i mammiferi e gli uccelli gli uccelli fanno cose straordinarie tu immagina l'energia che deve mettere un pavone per fare quella coda lì esponendosi in quel momento alla predazione è il momento in cui è più debole però lo fa per dimostrare che lui c'ha il patrimonio genetico più forte di tutti è orgoglioso immagine di l'uccello giardiniere che costruisce tutta quella casa per la per attirare la compagna ci mette tutta cromaticamente in tono ora purtroppo usa la plastica ma insomma fanno cose incredibili immagine dei corvidi già studiati studiate da da lorenz perché hanno una capacità evidentemente maggiore cioè tutta una materia vivente che pulsa non solo di intelligenza ma di sentimento io quando ero in in laos qualche anno fa ho imparato a portare l'elefante c'ho la patente mica scherzo è un corso di sette giorni dunque un corso breve è in l'elefante va indietro destra sinistra fammi scendere fammi salire l'ottavo comando era non fare casino perché stelefantessa con la quale ormai mi sono accompagnato per tutta la settimana e andava a giocare scendeva nel fiume con te sopra l'elefante nell'acqua diventa leggerissimo no comincia a girarsi a fare capriole tu attaccato non si è mai lo molli però sotto in mezzo a quest'acqua rimacciosa del cong facevano cose poi ritornava indietro si spruzzava tutta sta sabbia addosso e tu t'eri alla fine della giornata scesi ti guardava tu la guardavi era il momento di dargli da mangiare 150 kg di banane e ciuffi di ananasso e poi andava a dormire alla fine il dubbio era ma chi è che sta usando chi non è che lo capivo benissimo perché quella era un'elefantessa abituata a lavorare spostava pesi incredibili doveva portare solo me in giro a fare quello che gli pareva in più gli davo da mangiare c'era qualche cosa ma gli elefanti diciamo gli elefanti soprattutto indiani la più grossa comunità è nell'house selvaggia ma di quegli indiani si raccontano talmente tante storie tra cui una una volta erano usati per piantare i pali del telegrafo quindi c'era una macchina che faceva i bug e poi passava l'elefantessa con tutti questi tronchi da piantare a un certo punto non c'era verso non voleva mettere il tronco dentro un buco e il suo conduttore era impazzito dice no ma mettilo per forza scende vede che c'era un cane che dormiva dentro fatto andare via il cane l'elefantessa mette il tronco conosco molti sapiens che questo scrupolo non se lo sarebbero fatto quindi quando ragioniamo di queste cose e nel mio libro cerco di raccontarlo attraverso queste storie cerchiamo di tenere presente che c'è un contesto armonico di sentimenti e biologia molto forte che noi invece abbiamo colpevolmente trascurato infatti l'ultima storia ce la racconta una sapiens ma una sapiens del futuro che ci dice guarda che avete fatto avete ridotto questo mediterraneo che è molto piccolo e solo un 1 per cento dei mari del mondo però ha molti traffici al 20 per cento l'avete stuprato maltrattato ci vivete in 500 milioni sulle sue rive buttate dentro veleni cose di questo genere lui ancora conserva una bellezza e un'armonia derivata da quelle antiche storie che vi dovrebbe commuovere invece vi lascia indifferenti non ve lo meritate restituitecelo perché ve l'abbiamo prestato noi che certamente saremo in grado di reggerlo meglio memory soprattutto noi donne dell'insegnamento della dea madre perché un tempo come sapete i sapiens non avevano un dio padre onnipotente e guerrafondaio avevano una dea madre senza olimpo c'erano solo e questa storia la racconto a proposito di malta che era un'isola santuario no dell'antichità dove c'erano tanti santuari importanti dove c'era la dea madre dice la protagonista sapiens dell'ultimo racconto noi recuperiamo quella sapienza lì perché sono sicuro che se il mare l'avesse lasciato a noi donne noi femmine noi l'avremmo trattato molto meglio di voi che vi siete inventati le guerre tutta una serie di cose e soprattutto non avete sentito l'empatia del mondo ci ricorda nell'ultimo racconto che molto spesso in natura il maschio è un appendice diciamo spermatozoica della femmina e basta serve per quel per quella funzione lì ci sono certi pesci in cui il maschio è saldato al corpo della femmina molto più piccolo e naturalmente indispensabile deve fornire quella roba lì ma insomma non più e non tanto più di questo effettivamente tutte le cose cambiano quando i maschi capiscono che la gravidanza della femmina e la vita che dà siano determinate da loro ecco è lì che cambiano le cose fino al momento in cui questo legame non è chiaro perché non immediatamente è chiaro allora c'è ancora una dea madre poi viene spazzata via arrivano le regioni politeiste monoteiste io in questo naturalmente non mi addentro ma insomma arriviamo verso quest'altro tipo di cultura dimenticando che per la maggior parte del tempo siamo stati seguaci della dea madre oppure prima ancora sciamani o meglio seguaci di sciamanesimo e questi rappresentanti del genere uomo individui del genere uomo un po questa storia ci raccontano chi era lo sciamano antico no era quello che prendeva il contatto col mondo dei morti quando vedete quelle mani impresse sulle caverne no che cosa sono sono dei riti iniziatici infatti quelle mani spesso sono di bambino mai avrebbe potuto un bambino arrivare a quell'altezza lì mai si sarebbe infilato in una caverna mica si viveva nelle caverne ci si andava per questi riti i genitori lo sollevavano dopo avergli fatto imprimere i palmi nell'ocra rossa e loro mettevano le mani lì quello era il contatto con l'altro mondo lo stesso andamento sinuoso delle pareti della grotta come vediamo in tutte quelle affrescate aveva un significato infatti quei pittori lo usano per dipingere era un mondo di contatti e di armonia con il resto della natura che nel mio libro viene raccontato da questi episodi che ha avuto un epilogo che sembra drammatico ma che invece possiamo ancora cambiare purché accettiamo di vivere con dei limiti cosa che i sapiens non fanno volentieri ma i limiti fanno parte della nostra natura sarebbe interessante trasformarli in opportunità e non vederli come negazioni mi pare che sia un tempo piuttosto lontano è vero che in questo un po ci aiuta la scienza no questo è il contesto per ricordarlo la scienza che cosa ci dice che riusciamo a comprare che è il mezzo migliore per approssimare la realtà però è limitata non tanto nelle conoscenze quelle piano piano le faremo è limitata dal fatto che può cercare solo dove dove arriva ricorda un po e con questo vi saluto quella novella antica no per cui c'era c'era Ahmed davanti casa in ginocchio di notte per terra che cercava le chiavi e cercava queste chiavi dappertutto e arriva al suo compagno Mohammed e gli dice ma che stai facendo e sto cercando le chiavi di casa mannaggia e cerchiamole insieme allora cercano ma a un certo punto Mohammed gli dice ma scusa ma dove l'hai perduta dice l'ho perduta di dietro ma là non c'era luce quindi le cerco qua ecco la scienza fa un po' questo arrivederci grazie 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 grazie